Come può il pallone per Agodini nel girato, per Razzitti, il destro, Razzitti! Bella palla questa di Franchi per Barba, Togurto, Franchi, c'è spazio, Franchi, occhio alla sua sinistra, poi Razzitti! 2-0 Piacenza! Davvero un'occasione importante per Van de Putt, non sfruttata al meglio. L'occasione buona arriva però ora per la conclusione vincente del centravanti della Vitervese. 3 contro 2, attenzione, c'è solo Razzitti, viene servito in questo istante, Razzitti su di Lucicerelli, Razzitti! 2-1 incredibile, l'incredibile 2-1 del Catanzaro! Di gara, parte Giandonato, la mette in mezzo proprio sul secondo palo, c'è Gauchet, schema sul secondo palo, Razzitti! E c'è il vantaggio del Catanzaro! Questa è russotto, 1-2, Calvarese, ottimo questa azione, la mette in mezzo Razzitti! E c'è il gol di Razzitti! 3-1, 3-1! Così perché rifatto arriva dalle parti di Matteassi, poi Razzitti controlla con il ginocchio, scarica Persaper. In sovrapposizione c'è anche Matteassi, in area di rigore può diventare importante pallone, in mezzo Razzitti! Razzitti! Accorcia le distanze il Piacenza! La Juve Stambia, salvati, con Razzitti di petto, mette in mezzo a foresta, poi c'è Agnello, il limite della rigore, Agnello scivola, arriva a Bernardi, sinistro! La palla di Razzitti, il gol! Il gol del Catanzaro, con Andrea Razzitti! Il gol dell'attaccante della Rieda! Cambia gioco verso Agostinone, buono il controllo! Traversione basso, il tocco vincente di Razzitti, doppietta per lui! Fischia Tardino, parte Razzitti, il destro e il gol! Il gol! Il gol che ha bucato la rete, il pareggio del Catanzaro! Il gol di Razzitti!